Ciao amici! Chi non vorrebbe ringiovanire il viso in modo naturale? Ultimamente questo è uno degli argomenti più hot sul mio canale. Eh lo capisco. Anche io fino a qualche tempo fa ero molto molto preoccupata perché stavano comparendo rughe, solchi, grinze di tutto. Giorno dopo giorno vedevo il viso cedere sempre di più alla forza di gravità e perdere la sua freschezza. Quindi ho fatto una ricerca approfondita per trovare un sistema naturale che ferma gli effetti del tempo e anzi più passa il tempo e più ringiovanisce il viso. Non è stato semplice perché sui libri come sul web ognuno ha la sua teoria e molte delle strategie che ho trovato fanno più male che bene, peggiorano la situazione e posso dirlo dopo averle provate di persona. Alla fine però ho capito qual era l'unica strategia giusta che poteva funzionare e ho messo a punto il mio metodo che funziona davvero. È facile, veloce, si può fare a casa e presto voglio condividerlo con voi. Un po' di tempo fa ho pubblicato un sondaggio perché voglio essere sicura di dare una risposta concreta a tutte le vostre richieste e le vostre esigenze. Chi non lo ha visto può andare a vederlo, magari anche a rispondere dal link qui sotto. Invece a tutti voi amici che avete risposto volevo dire grazie di cuore. Per me ha significato molto e anche per voi perché presto condividerò la mia fantastica strategia per ringiovanire il viso in modo naturale. Non vedo l'ora. Quindi restate connessi amici e soprattutto amiche e preparatevi, preparatevi a dire addio a rughe, solchi, grinze, palpebre, cadenti, codici a barre sulle labbra, pieghe tra il naso e la bocca, rughe del collo, viso che cade. Insomma tutte quelle cose che quando ci si guarda allo specchio al mattino la giornata non inizia proprio al meglio. Ma attenzione sta per cambiare tutto. Parola di Simona nel frattempo ma sempre trendy e sani e presto ringiovaniti con Simona Vignali naturalmente. Ciao alla prossima!